ah guarda che è un bel video ragazzi però è un video si si è un video allora dove stiamo andando andiamo a scampagnata andiamo dove a fare che a fare cosa a fare cosa a fare cosa ormai è tardi a fare cosa siamo all'imbarco expert della cascata delle marmore quello è solo l'ultimo dei 10-15 salti e questo è il nostro amico Umberto va ragazzi siamo pronti ragazzi facciamo una bella discenda adesso partiamo di una bella rapida del quarto grado una bella fucilata sono qui con i miei ragazzi esperti ok siamo pronti a partire la giornata è fantastica fa caldo fa bellissimo i ragazzi tranne lui che ha grossi problemi psicomotorico guardate quello che sta a combinare ecco questo è esperto quando se ne è esperto fate questo ma i primi blocchi d'acqua speriamo di non esserlo mai allora ok io mi devo rivestire perché il bisognino va freddo bella la temperatura è superta eh ottima rapida ragazzi terza giornata eh senza quello lì c'è una bella pulita ok ecco qua un momento prima della partenza il momento più nervoso sembrano tutti tranquilli ma c'è una forte tensione adesso mettiamo le pinne finché non si bagnano sono ancora troppo desi ecco questo è il gesto giusto qual era il gesto giusto? ecco qua gesto tecnico che significa la caga eccoli qua ok comincia a scendere in acqua e bagnate rinfrescate un po' ecco qua ecco qua uno degli elementi più colorati ahi ed è bagnate bagnate dai vai verso destra tranquillo guarda giù vai verso destra va davanti eh verso destra guarda giù Vai, pinneggia forte Ok Ok, tutti a sinistra adesso Vai, faccio il controtrampo Vai, vai, vai Portali giù Seguite Romy ragazzi Via, via, via Destra, sinistra Romy Destra Ok, dopo la strettoia vai morta a destra Io intanto riprendo loro Vai, vai, seguite Romy, seguite Romy Seguite Romy Dopo, 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 dopo Dietrame ragazzi, dietrame ragazzi, dietrame Vai a destra Grande vai Luta a destra Vai, dietrame ragazzi Tutto a sinistra eh ragazzi Tutto a sinistra Guardate la fatica Guardate la fatica Ok, pronti ragazzi Tutto a sinistra eh Sauda Romy Grande, ok Tutto a sinistra Piccolo do bochino Dopo la sinistra Morta la pedana Sinistra di là Tutto a sinistra Alla pedana Alla pedana Vieni qua Alla pedana Tutti qua Alla pedana Vai Bravo Vai alla pedana Ok, alla pedana vai Vieni, vieni Qua alla pedana eh Girame dietro Passami dietro Ok Vieni, 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 vieni Passami dietro Ti preoccupa per lui Sti cazzi Dai Vai alla pedana Oh, dove cazzo vai Eccoli qua Rimieni, vieni, vieni Le pincole Senti alla pedana Guarda lui Romy Ok Dai Andiamo poi con me Ti prendo vostri Sono i vostri Un po' più di entusiasmo Sembra di Villa Speranza Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Eeeh, 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 eeeh Sigaretta Ma sui vostri questi? Nessuno desti tre gommoni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Non sono neanche loro Non sono neanche loro Ma non sono più donne Uomini Eh, che feglia Riccardo Riccardo, vieni Vieni, vieni, qua De punta Vieni, qua De punta Vieni, qua Ah, sono, loro Sono loro Vieni, qua Via verso De medi Punta Via verso De medi Punta Avete una Coordinazione fantastica Vieni Vieni, qua Casino, casino Uuuu Riccardo C'ha la sigaretta Oh potete fare un po' più un salutino ragazzi Vabbè vattene a fanculo E ancora ecco il resto della truppa I big swims E' l'ultimo lui? Ok Salute Salutate ragazzi Salutate che stocchiamo un secondo